Nessuna rete ma partita viva quella che va in scena tra Picerno e Vibonese. I padroni di casa nel finale sfiorano la vittoria con una traversa ma il match regala emozioni ed occasioni in più momenti. Pronti via l'ottavo Santaniello servito tutto solo in aria perde il tempo della conclusione calcialto. Sul ribaltamento Bubas per poco non sorprende la difesa intercettando un pallone in aria. Sfera sul fondo. Al diciannovesimo si rivede Santaniello sottoporta disturbato dalla copertura difensiva. Palla che termina alta in angolo. La primavera chance della Vibonese arriva al 26esimo. Prima Peterman impegna pane alla respinta. Sulla ribattuta Berardi calcio a botta sicura ma troppo alto. Occasione sciupata. Pochi secondi dopo gli ospiti si ripetono con il diagonale di Bubas che sfiora il palo. Grande rammarico per la Vibonese vicino al vantaggio. Al 35esimo Vrdojak scuote i suoi dopo il pericolo con la conclusione violenta respinta da Mengoni. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa gli ospiti si fanno vedere al 51esimo un tiro di Emmausso disinnescato da pane. Il Picerno risponde al 71esimo con Vanacore. Botta ravvicinata. Portiere che si supera e salva il risultato. Partita viva. Squadra a caccia della vittoria. All'86esimo combinazione Peterman-Bernardotto con quest'ultimo che viene fermato appena in tempo in aria. All'89esimo la grande occasione per i Lucani. Cecconi corre via verso la porta. rimontato. Calcia come meglio può ma trova la traversa. Picerno che sfiora il vantaggio. Nel finale, 91esimo in pieno recupero, i padroni di casa protestano per un possibile fallo in aria di rigore della Vibonese. Per l'arbitro è tutto regolare. Il match si chiude sullo 0-0. Un risultato tutto sommato giusto ma il Picerno negli ultimi minuti a crederci di più.